Ciao a tutti ragazzi come sempre sono il vostro Ivanerd E oggi ragazzi Faccio questo video apposta per augurarvi anche Buon stato Stefano e non solo Questo qua e molti secondo me si saranno chiesti Almeno credo Se non ve lo siete chiesti il video lo faccio lo stesso Ivanerd tu come sei ci dici Che ne so ci dici Ci dici Oggi ragazzi voglio farvi Tenta curiosità che non sapete solo di me Ok ragazzi lo so che adesso io Ho un po' sbarellato Con l'introduzione del video Ma adesso voglio dire quindi partiamo assolutamente col video Ok ragazzi Ragazzi oggi voglio fare anche la pubblicità della Coca-Cola Sperando che YouTube non Non mi censuri il video per Copylight Perché tanto faccio vedere soltanto la Coca-Cola La Coca-Cola Zero E adesso vorrei provare un goccio Ho appena finito di cenare Ma lo so che Ma lo so che Faccio male a dire Che ho finito di cenare Tanto poi non me ne niente Però voglio creare un cacchio Con i scritti Vabbè ragazzi Partiamo con le 30 curiosità Che non sapete Su Ivanerd Guardate ragazzi Ragazzi ho aperto Ho aperto la lattina della gara zero Video è Epic Epic open ragazzi Epic open Open Aspettate Aspettate un attimo Perfetto ci siamo Ok allora ragazzi Mentre io verso la coca cola Guardate un po' che precisione Coca cola Lo so ho spiegato 20 minuti di video Speriamovi la coca cola Ma adesso ragazzi Ehm Ehm ragazzi Adesso adesso voglio vedere la coca cola E poi cominciamo col video Che buona la coca cola ragazzi E' proprio buona Buona eh Che buona la coca Eddio Sto a ridere Questa serie E' siralante Questa serie che ho fatto A penare il video Adesso adesso Li faccio bene Li faccio bene Che buona la coca Ok ragazzi Ehm adesso adesso Facciamo con il video Grazie per la coca cola ragazzi